Nasce l'albo professionale dei circoli nautici, la proposta di legge a firma dell'onorevole Francesco Piccarone è stata presentata ad Agropoli nel centro storico, l'evento esclusivo e primo del suo genere è stato ospitato dal circolo nautico canottieri Agropoli. Si istituisce un albo dei circoli nautici, l'iscrizione a quest'albo attesta il principio che uno è a tutti gli effetti una onlus, un circolo e questo significa avere una serie di benefit fiscali e non il riconoscimento di ente di terzo settore. Quindi siamo all'interno della riforma del terzo settore. In effetti noi valorizziamo in questa maniera tutta l'esperienza di questi circoli nautici che in Campania rappresentano la storia. Qual è l'attività dei circoli nautici? L'attività è di promozione degli sport dilettantistici, è un'attività che si basa innanzitutto sulla formazione sportiva, velistica, della motonautica ma anche degli sport acquatici in generale, della scherma e degli altri sport minori. Attività verso il mondo della disabilità, di rispetto del mare, quindi verso la blue economy, che è un settore di grande sviluppo in questa fase e anche di rispetto dell'ambiente. Quindi serve ad incrementare la cultura del mare, la passione per il mare e a fare e organizzare questo raccordo. Dopodiché credo che la legge che ha iniziato il suo percorso legislativo approderà in aula nel giro del mese di luglio e avremo anche una consulta perché questa legge è associata anche a questa norma che abbiamo fatto nel collegato che consente di conferire ai circoli nautici questa caratteristica ed avere una serie di benefici anche per quanto riguarda il regime delle concessioni e altre prerogative. Ma soprattutto dobbiamo fare in maniera che queste attività non restino nel chiuso dell'associazionismo proprio dei circoli nautici ma vadano a beneficio della collettività. È istituito anche un premio nella legge in occasione della giornata del mare che viene curato dall'associazione dei circoli nautici che ci auguriamo possa raccogliere tutte le realtà marine, fluviali, lacustre della Campania. Una possibilità preziosa per favorire la realizzazione di iniziative per lo sviluppo della nautica di Porto delle infrastrutture costiere, del turismo di categoria e di tutte le attività economiche, produttive, sociali e culturali collegate. Questa legge fa un po' scopa con l'attività che ha messo in campo la regione Campania per il trasferimento ai comuni delle competenze sulle concessioni dei maniali non quelle legate al trasporto ma tutte le altre quindi io credo che stiamo riorganizzando per un corretto decentramento ai comuni nella gestione di quelle che fino ad oggi erano troppo accentrate in regione. Già il circolo nautico e l'agropoli da diverso tempo stava percorrendo una strada di fare rete con le diverse associazioni del territorio. Grazie poi all'onorevole Picarone che sta facendo il disegno di legge che riconosce il vero circolo nautico perché negli ultimi anni per molti il circolo nautico era solo un gruppo di soci che andava per mare invece non è così. Noi come cantile agropoli siamo uniti dallo spirito e dell'amore del mare addirittura le nostre manifestazioni sociali le trasformiamo in manifestazioni per il sociale aiutando il prossimo. Diciamo che per noi i circoli nautici di agropoli sono già una realtà già partecipano attivamente alla vita della nostra città già sono pieni di iniziative e quindi per noi di fatto già partecipano attivamente a tutte quelle che sono le nostre attività. È chiaro e giusto che ci sia questo riconoscimento quindi un ottimo lavoro ancora una volta ai consigli regionali che hanno voluto fare questa proposta che penso sia un fatto importante.